Spesso sembra che il dibattito sia tra i garantisti, cioè quelli che a tutti i costi vogliono tantissime garanzie, i giustizialisti, i forcaioli. Ecco, si tratta di un contrasto che non deve esistere. Perché? Perché bisogna capire che cos'è il garantismo. Il garantismo significa che fino a che un soggetto non si ha la certezza che processualmente è colpevole deve essere garantito, senza se e senza ma. Guai a chi vuole elevare gradi di giudizio? Assolutamente no. Nello stesso momento, quando si raggiunge la certezza che un soggetto è colpevole, allora a quel punto non è possibile pensare a addolcire le sanzioni. Le sanzioni servono e devono essere applicate. In Italia c'è un sistema lassista in cui le sanzioni si polverizzano. E allora massime garanzie, ma quando c'è la certezza della colpevolezza la sanzione va scontata tutta.